ciao amici risveglio al mare andiamo a vedere cosa stanno facendo i piccolini e le piccoline vediamo un po' ecco qua asietta andrea coltà scusate sandy ma no ma cosa fai lì ma cosa sta facendo sandy ma sotto le coperte ma sotto le coperte tu adesso stai facendo finta di essere brava perché sei un diavolo della tasmania sei morde tutto vero davide tutto morde questo qua questo fa finta di essere brava vero andrea guarda fa finta di essere un cane bravo ma questo è un diavoletto della tasmania eccola lì guardala guarda la fenizia guarda guarda la fenizia ciao a tutti ciao ma subito con lion ma no subito di prima mattina ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti